Ciao. Ciao. Papà è già partito? Sì, sì, ha preso il treno delle undici. Ero venuto a prenderti a scuola, ma eri già uscita. Volevo dirti che ho parlato con tuo padre della nostra situazione. È questo che io non sopporto. Che papà interferisca nei miei effetti. Non fare così, Manuela. È logico che lui si preoccupi del tuo bene. E anch'io. Provo molto affetto per te, Rudy. Ma non sopporto che si intromettano tutti. Papà, mamma. Perfino Luisa. Proprio per questo ho parlato con tuo padre. Pronto? Sì, sì, è qui. Chi lo vuole? Un momento. Nina. Raffreddore? Rischio febbre? Tachiflu Deck. Combatte in fretta i sintomi di... Un momento. Sì. ... Grazie a tutti